Martedì 12 gennaio sul Vicentino, una giornata serena dal clima rigido, temperature al di sotto delle medie del periodo in pianura, si toccheranno in meno 5 gradi, nei fondovalli prealpini meno 10, sull'altopiano dei 7 comuni i meno 20. Anche di giorno la colonnina del mercurio sarà di poco oltre lo zero. Mercoledì cielo sereno poco nuvoloso, correnti tese da nord ovest in quota faranno salire lo zero termico verso i 1500-1800 metri a causa dell'effetto del FON, i venti tiepidi e secchi in caduta dalle albi, tuttavia in pianura non si avvertiranno cambiamenti di rilievo. Giovedì altra giornata di sole, i venti in quota saranno in attenuazione con essi lo zero termico tornerà a calare di quota riportandosi sotto i 1000 metri, clima rigido in pianura, estremi termici tra meno 3 più 6. Per quanto riguarda la tendenza, tempo stabile anche nel fine settimana, quando un nuovo impulso freddo da nord-est farà scendere ulteriormente le temperature. Attualmente non sono previste precipitazioni almeno fino al 18 gennaio.